Musica Organizzato dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia ad Agrimet 2012, il workshop Il Tempo di Puglia, il servizio agrometeorologico della Regione Puglia per i cittadini, le aziende e le istituzioni. Raccontiamo un'esperienza di successo, questa dell'agrometeorologia della Puglia, realizzata da un po' di anni con i Consorzi di Difesa e che negli ultimi anni ha saputo arricchirsi di importanti elementi di innovazione. Un'innovazione necessaria non solo per elevare la qualità del servizio ma soprattutto per poter cercare ogni strumento capace di tenerci in dialogo stretto con un sistema agricolo che ha necessità di informazioni quotidiane, che ha necessità di avere una lettura scientifica capace di accompagnare le scelte che incidono sul processo produttivo. È un'esperienza che si conforta, che noi facciamo convintamente anche in un periodo come questo nel quale non abbiamo più risorse trasferite dallo Stato e quindi abbiamo una scelta che pesa direttamente sul bilancio autonomo della Regione. L'importanza strategica è vitale per il settore di conoscere con maggior precisione possibile e con buon anticipo le condizioni climatiche essenziali per chi vuole fare reddito agricolo e gli strumenti tecnologicamente avanzati che i Consorzi affidano ai propri associati e non. Questi i temi principali dell'incontro tenutosi presso la Sala Convegni Agrimed nel padiglione 18 della Fiera del Levante. Ai microfoni di Foglie TV, Francesco Schiavone, Presidente dell'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, Luigi Trotta, Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura della Regione Puglia e Gianluigi Cardone, agronomo del Consorzio di Difesa e Produzioni Intensive di Bari. L'importanza dell'informazione agrometeorologica oggi riveste un'importanza strategica in prospettiva per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio e quindi le eventuali successive strategie per far fronte ai cambiamenti climatici, ai processi di desertificazione. Questa è una prospettiva medio-lunga, quindi l'Associazione di Puglia, quindi la Regione Puglia, con il suo patrimonio, questa banca data ormai ultratrentennale, è uno strumento indispensabile per approcciare qualsiasi tipo di strategia appunto in prospettiva ai cambiamenti climatici. Ma non solo, noi effettuiamo tutta una serie di servizi alle imprese agricole che vanno dal monitoraggio dei più importanti parassiti, delle più importanti culture che abbiamo nel nostro territorio, a quello che è il monitoraggio dell'acqua e dei suoli per evitare appunto un anomalo uso sia dei concimi che della risorsa acqua. Facciamo appunto informazioni agrometeorologiche con le previsioni che diffondiamo a mezzo sms, a mezzo email, a mezzo dei bollettini che attraverso i consorsi di difesa che sono distribuite sulle cinque province della Regione Puglia appunto arrivano praticamente a, non dico a tutti gli agricoltori, ma alla stragrande maggioranza di essi. Ed inoltre non è da molto che abbiamo iniziato una collaborazione con la RAI regionale per offrire un servizio ai cittadini pugliesi perché le informazioni meteo appunto vengono date dalla RAI attraverso i nostri tecnici e attraverso quelle che sono le nostre elaborazioni in collaborazione con l'aeronautica militare. Il workshop di oggi riguarda il servizio agrometeorologico regionale. È un servizio che è stato istituito dal 1980 sotto il coordinamento dell'assessorato dell'agricoltura della Regione Puglia ed è un servizio che sempre più è stato implementato in termini di strutture. Oggi abbiamo 94 stazioni meteorologiche diffuse su tutto il territorio regionale sia di elaborazione dei dati attraverso delle centrali che riportano il dato a livello complessivo e anche dal punto di vista della restituzione del dato, quindi del servizio che si fa alle aziende agricole del territorio dal punto di vista della previsione agrometeorologica. Questo viene fatto su bollettini settimanali che vengono diffusi presso le sedi dove gli imprenditori agricoli possono reperirli. Viene fatto attraverso lo stesso portale agrometeorologico regionale, quindi www.agrometeopuglia.it dove è possibile reperire tutte le informazioni anche stazione per stazione, quindi sul territorio di interesse. Viene fatto attraverso il servizio agrofenologico, quindi una rete di tecnici che operano in campagna dando consigli per l'irrigazione e per i trattamenti antiparassitari alle aziende agricole e oggi viene fatto attraverso il nuovissimo servizio SMS attraverso il quale registrandosi è possibile ricevere sul proprio cellulare le informazioni relative alla previsione agrometeorologica. Quindi ogni imprenditore può sapere in tempo reale quali sono le condizioni che si verificheranno in modo da poter pianificare le proprie scelte. Naturalmente è corso con un vantaggio sia economico relativo all'uso dell'acqua, risparmio idrico, alla razionalizzazione degli antiparassitari e sia ovviamente ambientale per il minore impatto che l'attività agricola ha sull'ambiente. Sono un agronomo del Consorzio FES di Produzione Intensive di Bari. Il Consorzio svolge un'attività di assistenza tecnica al mondo agricolo, in particolare sul servizio agrometeorologico regionale con previsioni settimanali e anche delle indicazioni, consigli sulla parte fitosanitaria. Oltre ad informazioni di carattere anche di politica agraria e economica, ma soprattutto ci focalizziamo le nostre attività con un monitoraggio sugli aziende agricole o campi di osservazione. Quindi abbiamo un controllo sul territorio sia degli aspetti fitosanitari, ma grazie anche a una rete di stazioni meteorologiche possiamo avere informazioni in tempo reale dalle nostre stazioni, circa 95 per la Regione Puglia, da cui poi estrapoliamo delle previsioni a 5-6 giorni. Da queste informazioni possiamo quindi dare indicazioni anche in tempo reale. Oggi presenteremo qui al convegno anche il servizio SMS, con il quale possiamo entrare nei cellulari, quindi nella vita quotidiana degli agricoltori con informazioni a brevissimo termine. Grazie a tutti!